Ciao, sono all'interno di un luogo magico, sentirai molto rumore perché è pieno di gente. Questo luogo è il Palazzo Reale qui di Bangkok ed è veramente bellissimo, non ci sono parole, sono rimasta stupefatta, mi vedrai sudatissimo perché indosso una maglia con le maniche lunghe, non si possono portare canottiere, bisogna vestirsi in un certo modo per entrare, sono molto molto rigidi. Ti faccio dare un'occhiata a questo luogo, a una parte almeno. Questa è solo una piccola parte di questo luogo meraviglioso. All'interno di questo edificio si trova la statua del Buddha di Smeraldo che è veramente molto molto bella, oltre che essere bello tutto il contesto, ma la cosa bellissima è proprio l'energia che si respira. C'è una guardia che ci ha fatto entrare proprio per meditare, c'erano alcune persone in preghiera, adesso abbiamo fatto anche il rito con gli incensi, i fiori di loto e la candela in offerta al Buddha. È molto bello perché comunque preparano loro la possibilità, le persone che vengono in visita, proprio di fare questa celebrazione ed è veramente molto molto bello. Chi ha la possibilità di sentire l'energia, anche se c'è molto magari rumore, c'è molta gente, l'energia si sente ed è veramente molto molto forte. Quindi quello che faccio adesso, se hai piacere, è proprio di fare un minuto di silenzio e ti invito a fare altrettanto, di connetterti a questo luogo e alla statua del Buddha di Smeraldo. Lo facciamo insieme adesso. C'è un minuto di silenzio. Bene, penso che tu abbia sentito l'energia, oltre a questa guida che usava un tono della voce un pochino alto, comunque penso che tu abbia potuto sentire l'energia di questo luogo e spero che questo ti abbia fatto piacere. Ti auguro una giornata meravigliosa, magari può darsi che faremo altri video, non lo so, vediamo che cosa arriva. Ti suggerisco di connetterti al Divine Connection Point, come al solito, come tutti i giorni, e ti auguro veramente una giornata piena di luce. Ciao, a presto! Grazie. 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 Grazie.